Allora Assessore, un'estate particolarmente rovente, quella di quest'anno. Anzitutto facciamo un punto su quella che è la situazione, un luglio-agosto in cui gli incendi si sono moltiplicati e purtroppo continuano a tenere impegnati Vigili del Fuoco e le forze della Regione. Il problema degli incendi boschivi non va di pari passo con il periodo particolarmente siccistoso che stiamo vivendo. Nel 2012 avemmo una situazione praticamente analoga anche se con numeri più contenuti. Quest'estate è particolarmente significativa, siamo a oltre 220 incendi in tutta la Regione e una media di due volte e mezzo superiore alla normalità delle cose. Abbiamo 1.500 ettari di vegetazione persi e quindi con effetti anche sul microclima perché chiaramente questo grande polmone verde che la nostra Regione ha fortunatamente ha subito dei danni importanti con quest'estate 2017. Ancora non si prevedono precipitazioni importanti e quindi probabilmente lo stato di guerra come l'ho chiamato io perché questo è rispetto ai numeri e anche all'impegno dei nostri operatori perdurerà anche sicuramente fino a dopo il ferragosto. Ci auguriamo che ovviamente in questa sensibilizzazione che anche voi che i media stanno facendo stimoli un senso di responsabilità diffusa e anche di vigilanza dei cittadini comuni che in qualche modo osservando il proprio territorio possano fare anche da sentinelle avvertire sistematicamente e immediatamente le forze dell'ordine. Ecco a fronte di questa situazione la Regione ha una sua macchina operativa per gestire appunto l'emergenza degli incendi. Come funziona questa macchina operativamente? È una macchina molto impegnativa e molto consistente che non è soltanto della Regione Toscana ovvero la Regione Toscana ne ha sicuramente il coordinamento ma poi come il sistema di protezione civile esattamente in maniera analoga anche l'antincendio boschivo conta sulla collaborazione degli enti locali, dei comuni in primis ma anche su un numero molto consistente di volontari perché abbiamo 4.200 volontari sull'antincendio boschivo, 500 operai forestali delle unioni dei comuni che lavorano in questo periodo in maniera molto intensa, 180 direttori delle operazioni questi sì sono dipendenti della Regione e dei comuni e in questa fase abbiamo anche un impiego molto importante di mezzi perché vi sono oltre 600 mezzi fra mezzi pesanti e mezzi leggeri e poi tutta la flotta di elicotteri che conta una decina di mezzi per la Regione Toscana poi ovviamente nei casi più importanti abbiamo avuto bisogno dell'apporto dei Canadair nazionali con un impiego anche piuttosto consistente. Ecco qui c'è una sala operativa, come funziona questa sala operativa nel momento in cui scatta un'emergenza? Beh la sala operativa intanto ha un'apertura H24 quindi in ogni momento della giornata si può contattare e siamo subito operativi e entriamo in funzione. C'è un numero verde, viene contattato e la sala si attiva subito con i presidi territoriali prima di tutto con il coordinamento dell'antincendio che afferisce all'assessorato all'agricoltura con la struttura quindi regionale e poi immediatamente con i presidi territoriali che poi a seconda delle esigenze attivano anche il volontariato. Ovviamente in prima battuta c'è anche una collaborazione stringente che vorrei sottolineare insieme ai Vigili del Fuoco ovviamente al Corpo Forestale dello Stato, oggi Carabinieri Forestali. Abbiamo anche due convenzioni con queste strutture proprio perché il dialogo è costante soprattutto i fenomeni difficilmente sono o solo boschivi o di interferenza o su centri abitati spesso sono situazioni assolutamente promiscue che richiedono una grande sinergia, una grande collaborazione. Quindi il sistema è complesso però io credo che in quest'estate 2017 abbia dato ottima prova di sé con un impegno importante. Ricordiamo anche che i dipendenti che fanno i direttori delle operazioni lo fanno accumulando ore di lavoro straordinario che spesso non vengono neanche retribuite spesso vengono recuperate nel corso dell'anno. Quindi c'è davvero una generosità del volontariato degli attori e anche degli enti molto importanti che vorrei davvero sottolineare alla quale vorrei esprimere la piena gratitudine del Presidente di tutta la Giunta. Ecco, dicevamo appunto di un'estate particolarmente impegnativa. Ci sono state situazioni, giusto per magari collocarne qualcuna, di estremo bisogno in zone particolarmente difficili da raggiungere, in zone impervie e magari anche con delle abitazioni vicine. Ecco, in questi casi come si gestisce? Parlava prima di più mezzi, ci sono gli elicotteri, ci sono più modi per arrivarci? Sì, faccio pochi esempi. Abbiamo avuto gli incendi sulla via delle Collacche, Marina di Grosseto, Castiglione della Pescaia, dove fra l'altro devo dire con una collaborazione fondamentale con il Sindaco, mi viene in mente Farnetani, in particolare di Castiglione e anche Bellumori, di Capalbio, sono state anche in maniera molto silenziosa e molto rispettosa di chi è in quelle zone a fare le proprie fere, però sono stati di fatto evacuati alcuni campeggi, alcune situazioni che stavano esattamente all'interno della pineta colpita. Come ad esempio l'incendio a Montale, proprio qua vicino Firenze, che ha riguardato un'area molto estesa, siamo sui 370 ettari di bosco, ma appunto su una zona particolarmente impervia, sulla quale non riuscivano i volontari ad arrivare via terra e quindi è stato necessario intervenire a più riprese con gli elicotteri e anche con i Canadair, ma addirittura il Comune di Pistoia ha dovuto realizzare in costanza di evento una strada parafuoco per delimitare la zona e evitare che l'incendio avesse propaggini preoccupanti. E poi ci sono stati incendi significativi, mi viene in mente Pomerance, piuttosto che Piancastagnaio, intorno alle centrali geotermiche. Pomerance addirittura su un impianto di nuova generazione, ma che ha riportato danni molto ingenti. Quindi insomma devo dire che alla fine i danni di questa stagione sono davvero molto importanti, non solo in termini di vegetazione, quindi credo che ci sarà molto lavoro da fare anche per il futuro, per programmare azioni ed interventi in questo senso. Guardando al futuro appunto la Regione, che cosa ha in mente di fare? Il Presidente Rossi ha parlato di un possibile intervento anche legislativo per regolamentare gli interventi appunto contro l'emergenza e incendi. Si parla per esempio anche di operazioni apparentemente abbastanza semplici, come la creazione di strade frangifuoco. Sì, è un'operazione di per sé semplice, ma che ha bisogno di una pianificazione molto puntuale. Fra l'altro la nostra Regione è percorsa da strade bianche, quindi si tratta di ricostruire questo reticolo in maniera puntuale, di mantenerlo e di intervenire in quelle zone nelle quali appunto si ravvisa una carenza e quindi la necessità di disegnarne di nuove. Ma il Presidente ha giustamente accennato anche alla necessità di lavorare per la manutenzione dei boschi. Purtroppo le nostre attività tradizionali silvoculturali sono andate un po' perdendosi nel corso del tempo. Ecco, c'è bisogno invece di incentivare la manutenzione del bosco, valorizzare la filiera del legno. Alcune esperienze ci sono e comunque al nord d'Italia ci insegnano che effettivamente il legno oggi ha utilizzi anche diversificati, importanti e quindi legare la necessità della manutenzione del bosco a un'opzione, un'opportunità concreta di carattere economico alla quale dare gambe. Credo che sarà necessario un intervento di legge che disciplini tutta questa matassa e ci stiamo già lavorando al netto del periodo agostano ma gli uffici sono già a lavoro. Grazie.